Educare rispetto delle regole e alla legalità, una materia che non si studia soltanto tra i banchi di scuola, ma che si crea e si sviluppa sul territorio attraverso la promozione della cultura e dell'imprenditorialità. Un intento comune, quello promosso dalla Prefettura e dell'amministrazione comunale, che insieme alle forze dell'ordine, l'Associazione Nazionale Magistrati, l'Ordine degli Avvocati, si sono riuniti nella stanza del Prefetto Maria Teresa Cucinotta per presentare alla stampa il seminario Lo sviluppo e le regole, il futuro per Caltanissetta. Artigianato, agricoltura, risorse culturali ed ambientali, innovazione tecnologica, sono i settori che vedranno coinvolti i prossimi 13 e 14 maggio gli studenti delle scuole superiori e delle università in delle vere e proprie giornate formative all'insegna della legalità. Bisogna avvicinare i giovani alla legalità trasfondendo in loro quelli che sono i concetti che il rispetto delle regole conviene sempre, che può essere anche propedeutico a fare impresa come quello che vogliamo dimostrare noi con questo convegno. Si può fare impresa, si può sviluppare il territorio, si può anche avere una proiezione verso il futuro dei giovani rispettando le regole e avendo consapevolezza che solo con il rispetto delle regole si può ottenere anche il rispetto del territorio e degli altri. Nasce proprio dall'idea che il concetto di legalità deve essere declinato nel coinvolgimento del territorio e in una concretezza di azioni che deve vedere da un lato il protagonismo dei giovani perché sono loro il futuro del nostro territorio e tutti gli enti e le istituzioni che sono coinvolte a vario titolo nel garantire il rispetto delle regole che si affiancano ai giovani. Credo che questo concetto di sussiderità orizzontale per la prima volta si concretizza anche nel nostro territorio e ci rende più normali, più vicini ai modelli di sviluppo europei che ci devono appartenere perché anche noi facciamo parte dell'Europa. Una collaborazione tra scuole e istituzioni che verrà in seguito sottoscritta attraverso la firma di un protocollo d'intesa, le istituzioni per l'educazione e la legalità a termine delle due giornate formative.